quando l'universo si farà parola ecco è giunto il momento ora che l'universo si è fatto parola ora che siamo al di là del passato e del futuro nel punto momento in cui si dà l'incontro attraversati dalla grande luce come su quella spiaggia sognata davanti al grande mare nel battesimo dell'acqua oppure ancora in volo nel battesimo dell'aria grazie dei giorni bui e vuoti grazie delle disperazioni che ci hanno indotti al fine al grande salto dal lungo sonno ora oltre il battesimo del fuoco in cammino finalmente insieme nella perenne trasformazione